benvenuti alla nostra sfida evviva simple dimple ti amo benvenuta puppet girl sali sul palco vai puppet girl ciao tutti i fan dei puppet adorano questa ragazza ma è presto per loro per aspettarsi una facile vittoria il nostro secondo concorrente simple man è fantastico che bello e che muscoli tu hai un simple dimple e tu hai un simple dimple sei un pavone vanitoso che vinca il migliore allora controlliamo chi dei concorrenti è più preparato per il momento della piscina saranno gli scogliattoli non hai gli occhiali non hai un cappello e con questo caldo è molto importante sì non ho un cappello ma un berretto così sono molto più fresco sembra che sia finita con un pareggio questa battaglia ma i ragazzi non sono d'accordo guardate continuiamo a seguire lo sviluppo degli eventi ho anche gli occhiali hai visto beh è improbabile che questi due vadano d'accordo la vittoria significa troppo per loro è ora di girarsi ragazzi basta litigare a questo punto è un pareggio entrambi i concorrenti hanno fatto un ottimo lavoro taylor meglio andare a fare una nuotata ci sono molti modi per utilizzare i giocattoli antistress tutto ciò che serve è una buona immaginazione questa è una battaglia musicale rendiamo unica questa festa sembra che i fan siano entusiasti della musica di pop it girl riuscirà a battere simple man in questa competizione la musica diventa più forte balliamo tutti questa notte è nostra non fermiamoci sì la performance di pop it girl è davvero di alto livello vattene sono il migliore in questo e a proposito il tuo alto parlante mi dà fastidio così va meglio cos'è questo suono orribile simple man non è capace vogliamo pop it girl sono tornato e ha portato il mio strumento è un tamburo simple dimple guardate forte no beh lo sta suonando ed è fantastico a quanto pare i nostri dj dovrebbero lavorare insieme perché ai fan piace questo duo ops continuate a divertirvi allora è il momento di annunciare il vincitore della battaglia musicale è di nuovo un pareggio ci vediamo al prossimo round fino ad allora balliamo le riprese segrete in piscina continuano sembra che la nostra sfida si sia trasformata in un vero reality show voglio anche un lecca lecca a forma di giocattolo ehi wow chissà se funziona anche lì giù le mani quello è mio aiuto ti prego fammelo aprire sbrigati taylor abbiamo bisogno di contenuti esclusivi dai non puoi romperti di nuovo nel momento decisivo ciao a tutti continuiamo la nostra sfida è il momento di una gara di gioco sono alex un giocatore grande abbiamo bisogno di te ragazza pop it la mia tastiera ho una tastiera migliore per te ecco goditi questo gioco ma non funziona e non posso collegarla lascia che la metta via il pop it non ha superato il test questa volta cosa possiamo fare? oh che diavolo sta succedendo qui? calmati ragazzo simple man vincerò questa gara tieni wow simple dimple joystick funziona davvero sì te l'avevo detto e la vittoria in questo round va a simple man e ora è il momento della sfida della cassaforte chi vincerà questa volta? portate la cassaforte ta-da la cassaforte è qui benvenuta ragazza pop it ciao aprire questa cassaforte è un gioco da ragazzi per me forza ragazza pop it puoi farcela tutto ciò di cui ho bisogno è il mio pop it devo solo inserire uno speciale codice di hacking non funziona fatela scendere dal palco simple man arriva in soccorso davvero? certo che no tocca a me ora attenzione per favore è così che fanno i veri professionisti guardate e imparate simple man sembra andare alla grande oh sì ce l'ha fatta ha aperto la cassaforte facile ho il simple dimple d'oro con i diamanti simple man ha vinto di nuovo è davvero il migliore congratulazioni al nostro vincitore della gara di apertura della cassaforte ben fatto simple man restate con noi un sacco di cose interessanti vi aspettano bene 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 è tutto perfetto ha tutta la merce è ora di andare oh no sono Vanessa siamo in diretta dalla scena del crimine chi sei tu? stiamo girando una sfida qui facci vedere cosa hai preso beh statuette d'oro un po' di soldi tutto qui basta questo è troppo hai superato il limite ragazzo posso spiegare tutto lo spiegherai alla stazione di polizia non avresti dovuto rubare i nostri giocattoli ecco ti servito continuiamo la nostra sfida e oggi abbiamo una battaglia culinaria iniziamo quindi ognuno dei concorrenti deve cucinare un piatto a forma del proprio giocattolo antistress cucinerò i miei famosi pop it pancake ho preparato l'impasto in anticipo ma quello non sembra un pop it non disturbarmi uso una spatola speciale per dare al pancake la forma desiderata voilà ma non è tutto ecco il tocco finale riempio il pancake di sciroppo e ora è proprio come un pop it va bene lo ammetto ce l'ha fatta io cucino queste sono troppo grandi ok proverò quelle di quaglia questa è la misura giusta fatto sei magnifique il tuo piatto sembra più pop it che un simple dimple non ho ancora finito il mio capolavoro che te ne pare quattro piatti in una volta sola e come si preme nemmeno una cialda si schiaccia signore e signori è di nuovo un pareggio congratulazioni siamo in diretta e oggi decidiamo quali accessori sono i migliori aspetta simple man ragazza pop it hai una borsa bellissima sì questa è la creazione del famoso Mark Fakops lei è così avida beh va bene anch'io qualcosa voilà queste sono due caramelle al cocco e non le dividerò con te ragazza pop it ho un'intera borsa oh le mie caramelle ah ti sta bene basta spegni la telecamera le riprese sono finite sono stufa di voi e dei vostri litigi il tuo drink è troppo caldo tutto quello che devi fare è preparare del ghiaccio in simple dimple ecco qua facile e rinfrescante questo non è sufficiente nella stagione calda pop it e il tuo drink è adeguatamente raffreddato allora la gara finale della nostra sfida è la battaglia delle bolle vi presento i nostri concorrenti buona fortuna ciao a tutti sono pronto a vincere non oggi la vittoria sarà mia è ora di soffiare le bolle un piccolo trucco per iniziare niente di che un simple dimple per tutti ops piccolo problema tecnico dammi un secondo tentativo numero due sei patetico ma ammetti che è un fallimento avanti simple man non si arrende mai preparati per una mega bolla simple man ha perso e la ragazza pop it ha vinto evviva non è possibile scrivete nei commenti qui sotto chi è il vero vincitore della sfida congratulazioni a pop it girl ti è piaciuto il nostro video allora metti mi piace iscriviti al canale fai clic sulla campanella a presto